Allora perché un libro con un titolo molto evocativo il vento in poppa perché col vento in poppa si va abbastanza veloci prendere il vento diciamo con le vele che riescono a prendere a pieno il loro potenziale ci aiuta sicuramente ad andare avanti e raggiungere meglio i traguardi Allora il libro l'ho scritto perché a seguito comunque di una serie di esperienze personali ho fatto anche un percorso sul coaching in cui ho trovato un metodo e tante risposte e come tanti che desiderano scrivere un libro ho detto perché non scrivere un libro però non scriverlo tanto per scriverlo ma che potesse essere fruibile al lettore che lo aiutasse ad arrivare da qualche parte e quindi per quelle che sono state le mie conoscenze le mie esperienze ho messo insieme queste cose ed è venuto fuori questo libro. Ecco quindi è un modo per poter affrontare la vita nelle sue difficoltà con un'ottica particolare qual è l'ottica giusta nella quale dobbiamo affrontare le cose quindi? Allora la vita sicuramente ci presenta tante belle difficoltà l'ottica giusta è quella di accogliere quello che viene perché anche le cose meno piacevoli che ci capitano in realtà possono darci quell'energia per andare avanti e per raggiungere dei traguardi quindi l'ottica è questa qua. Mi viene in mente l'esempio di un vulcano se pensiamo ad esempio il Vesuvio che sono 70 anni che è spento tutti dicono potenzialmente è pericoloso ma cosa fa sì che un vulcano potenzialmente diventi pericoloso? Dipende dall'accumulo di energia che ha al suo interno quindi se noi come il vulcano riusciamo ad accumulare quelle emozioni, quelle energie che riescono a far uscire la nostra potenzialità ecco che possiamo riuscire. Senti dove si trova questo libro? Se si trova quando e dove? Allora sicuramente si trova online su quasi tutte le librerie online, si trova su Amazon, su Mondolibri, Albatross e sicuramente adesso sta uscendo anche in tutte le librerie.